Sì, sì, lo so, lo so, me ne scuso, è passato un'eternità dall'ultimo video della serie Poracci però ragazzi serviva un lasso di tempo per elaborare un contenuto di questo livello perché sì, avete letto il titolo, oggi parliamo di cover ma no queste classiche, brutte, mezze dei semi trasparenti che se ingialliscono, roba davvero orrenda e no, neanche delle flip cover un po' vintage, un po' brutta, regà, dai, ma siamo nel 2020 e neanche delle cover d'arcinese brutte, insomma, che non si possono vedere e non parliamo neanche delle cover originali, troppi sordi, 20 euro per una cover ma che ve siete impazziti in silicone, ragazzi no, oggi parliamo di un miracolo della scienza eh già, perché oggi parliamo di una delle cover trend del 2019, ovvero la cover con il vetro temperato sul retro davvero un euro più o meno di dispesa, ce l'avete in ogni colorazione queste per esempio sono soltanto due, ma potete farvela anche personalizzata quindi beh, parliamo ne un attimino, due secondi eh, però insomma, vale secondo me la pena considerarla se è un buon acquisto oppure... il motto ragazzi rimane sempre minima spesa massima resa, quindi andiamo a vedere se effettivamente questa cover rende oppure no e allora ve le faccio osservare da un pochino più vicino allora non sono assolutamente male a prima vista, sì qui notate che l'ho già distrutta quella per l'oppo reno, vabbè è stata colpa mia l'ho fatto cadere 3-4 volte di troppo questa invece su Lilla, che è per il Mix 2S, ce l'ho da un bel po' di tempo praticamente dal ottobre 2018 e in un anno praticamente, vabbè, 3-4 mesi di utilizzo non è male, praticamente guardate, è ancora come nuova se non vi cade, resiste se vi cade, beh, rischiate di avere una roba del genere che comunque potrebbe essere anche un pochino artistica in base a come lo fate cadere e dal momento che la vostra domanda maggiore sarà Marco, ma dove si ordina? ecco allora, state notando, io le ho prese da AliExpress il costo siamo su 2 dollari e 50 questa per i reno invece l'ho pagata 2,30 sempre, vabbè, su AliExpress ci sono miliardi, mila di colori e cose diverse ma in realtà ve ne sto facendo vedere anche una per il OnePlus 7 che ho fatto io personalizzata per un amico dietro la cosa della Roma, vabbè, una cosa super trash e quella personalizzata comunque l'ho pagata 2 dollari e 60 quindi siamo sempre praticamente sui 2 euro se a fine video siete interessati e non riuscite a trovarla perché insomma i meccanismi di ricerca di AliExpress sono un algoritmo fantastico lasciatemi un messaggio su Instagram in direct e magari ve la provo a cercare io e insomma alla fine per 2 euro 1,50 euro ci portiamo a casa una cover che esteticamente secondo me è molto carina perché ci permette di personalizzare effettivamente il telefono in una maniera un pochino colorata tra l'altro il vetro è arrotondato ai bordi questo significa che non è per nulla tagliente quindi alla fine anche la maneggiovolezza è buona perché poi comunque abbiamo anche la parte gommata sul frame che è fantastica fantastica perché sì ok magari può essere un pochino brutta lo fa un pochino tozzo però la maneggiovolezza è fantastica non ci scivola mai dalle mani comunque i tasti sono ben cliccabili davvero hanno un ottimo feed sia a sinistra beh in questo caso a destra e essendo questo l'opporino con la camera a scomparsa possiamo notare anche che abbiamo il foro per appunto la camera a scomparsa che non dà alcun problema di sorta il mio consiglio comunque è di prenderne una di quelle personalizzate anche perché ragazzi è davvero semplice la procedura voi praticamente la comprate dopodiché gli ho mandato un messaggio in privato come in questo caso io gli ho scritto hi I'm uploading the picture for the cover gli ho mandato l'immagine e praticamente loro l'hanno stampata avete notato che comunque il risultato è più che buono e insomma non posso tanto lamentarmi anzi secondo me quella che ti fai con la tua stampa è la migliore perché insomma la personalizzi un pochino non è trash come con le finte scritte per la camera o cose a caso e per circa un euro è comunque qualcosa di esteticamente carino che non si rovina sempre se non la fai cadere come ho fatto io perché comunque è sempre un vetro di bassa qualità quindi occhio alle cadute fatemi sapere quindi sotto nei commenti cosa ne pensate se state cercando e non la trovate insomma scrivetemi come ho detto prima su Instagram eccetera eccetera ragazzi noi ci vediamo con il prossimo video ciao ciao